Oggi vorrei parlarvi di Giulio Regeni. Come sapete questo ragazzo è stato ucciso qualche anno fa in Egitto, torturato, seviziato e poi ucciso dalle forze di sicurezza, perché temevano le forze di sicurezza egiziane, appunto è stato ucciso in Egitto, che temevano fosse una spia. L'Italia ha protestato a lungo, ha fatto finta di protestare a lungo, io dico fatto finta perché poi alla fine non è stato ottenuto granché, scambi di cortesie, di indagine fra le varie prefetture, procure, il prefetto che parte, i poliziotti italiani che vanno in Egitto, i poliziotti egiziani che fanno finta di dialogare con quelli italiani. La verità è che l'uccisione di Giulio Regeni è uno scandalo, è uno scandalo per la democrazia, è uno scandalo per l'Europa, perché appunto contrariamente a quanto dice un funzionario della polizia dei sistemi di sicurezza egiziani, Regeni non è stato ucciso come potrebbe succedere per una qualunque persona che viene uccisa in mezzo alla strada per caso, è stato torturato, seviziato e poi ucciso, ed è una situazione paradossale. Pensiamo a questo povero ragazzo che stava semplicemente svolgendo un'indagine per l'università inglese, di cui era, diciamo, come dire, referente, trovarsi poi da un giorno all'altro ucciso, buttato in mezzo alla strada. La cosa più triste di questo è la completa, assoluta e rumorosa assenza del governo italiano, che non ha avuto le palle, permettetemi in termine, di andare a contrastare l'azione del governo egiziano. Il motivo è unico ed è molto semplice, ci sono troppi interessi economici in ballo. L'Egitto è un importatore di prodotti italiani, uno del bacino del Mediterraneo, sono notevoli le attività che finiscono in Egitto e quindi non si possono rompere le relazioni diplomatiche con l'Egitto. Però è uno scandalo che ancora adesso il discorso di Regeni non sia stato ancora risolto. Ancora maggior ragione questi giorni uno scandalo che persone che invece in Egitto stanno difendendo la causa di Regeni, quindi associazioni e avvocati incaricati dalla famiglia di indagare sulla cosa, sono oggetto di pressione continue da parte dei servizi segreti egiziani. Io credo che sia un vero scandalo per la democrazia. Io ritengo che nel mio piccolo sia giusto e doveroso che l'Italia richiami l'ambasciatore e che riveda i rapporti democratici, i rapporti economici e bilaterali con un Paese che ha un sistema evidentemente non rispettoso dei diritti umani e quindi un sistema dictatoriale. L'Italia e anche l'Europa non può fare questa figura a livello internazionale. Urge una reazione. Questo ne va per la nostra dignità, rispetto nei confronti di Regeni ma anche rispetto nei confronti del popolo italiano perché domani potrebbe capitare anche a un altro amico, un nostro figlio, un nostro amico.